Musica Auto si ferma per far attraversare un pedone ma viene tamponata e investe la donna sulle strisce 45 anni trasportate nelle ambulanze al torrette di Ancona Un'auto finisce nel porto canale a Gabicce mentre ad Ancona va in fiamma una lancia Y Andata distrutta, pompieri in azione anche nella Scolano per l'incendio di un bosco Arrivato in mattinata un canadè Covid e le marche scendono sotto soglia in due parametri su tre Ma speranza conferma si resta in zona arancione anche la prossima settimana Girerà per i comuni della provincia anconetana per lanciare messaggi nei palazzi del potere Claudio Rossetti, referente Fisi, in sciopero della fame che rivendica la fine dell'emergenza sanitaria e il ritorno allo Stato di diritto Al via i lavori alla trave di Fano per la nuova pista ciclabile che collegherà l'interquartieri con via della giustizia La palleotta fino all'Arzilla sarà un percorso largo tre metri a doppio senso di marcia e illuminato a lenti Nuovi varchi di accesso al porto di Fano e potenziamento dell'illuminazione nel molo di Ponente da lunedì partono i lavori Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia In primo piano alla cronaca con un investimento accaduto oggi pomeriggio alle 14.15 lungo la strada nazionale Adriatica Sud Dal chilometro 262.500 a Marotta di Mondolfo Secondo i primi accertamenti eseguiti dalla polizia locale un 56enne fanese a bordo di una Citroen che procedeva in direzione Senigallia Si è fermato all'altezza del ristorante Il Gabbiano per far attraversare una donna sulle strisce pedonali In quel momento però stava sopraggiungendo nella stessa direzione di marcia una Ford guidata da un uomo di 53 anni residente a Fano Che ha tamponato la Citroen ferma sulla careggiata A causa dell'urto la donna una 45enne di Cagli è stata investita I sanitari hanno allertato l'eliambulanza atterrata nel campo vicino che l'ha trasportata all'ospedale regionale Torrette di Ancona Ma non si conoscono ancora le sue condizioni di salute sul posto anche i carabinieri E dal ministro Speranza oggi è arrivata la conferma delle fasce di colore Le marche resteranno in zona arancione anche la prossima settimana Nonostante i dati siano in netto miglioramento Infatti secondo i dati dell'osservatorio epidemiologico la nostra regione scende sotto soglia in due parametri su tre In area medica l'occupazione dei posti letto cala rispettivamente al 18,5 e al 29,3% Secondo il governo però non è ancora sufficiente E le restrizioni che colpiscono in particolare chi non è munito di Green Pass continueranno a persistere almeno fino a domenica 20 febbraio Cambiamo argomento Andrà a visitare i palazzi del potere e i luoghi significativi della democrazia che ritiene interrotta Claudio Rossetti, referente del sindacato Fisi per le Marche Ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la gestione dell'emergenza sanitaria E anche per Rossetti non ha più motivo di esistere È in sciopero della fame dalla mezzanotte di oggi Claudio Rossetti Cittadino libero residente nella provincia di Ancona Che ha deciso di intraprendere questa battaglia che durerà fino al 15 febbraio Data non casuale visto che è il giorno di sciopero generale Proclamato a Roma dal sindacato Fisi La federazione italiana sindacati intercategoriali Di cui Claudio è referente per le Marche È una sottolineatura che voglio dare all'enorme importanza che ha in questo momento quello sciopero Per il semplice fatto che il nodo per cui in questo momento i lavoratori, quelli che producono Sono così scarsamente rappresentati in Parlamento Per non dire affatto rappresentati in Parlamento È proprio il nodo sul quale bisogna lavorare I lavoratori devono riappropriarsi di una voce, ha proseguito Rossetti E quindi farò tutto ciò che posso con le mie modeste qualità e capacità Io personalmente non mi sento in difficoltà economica Non è quello che mi muove Mi muove la preoccupazione che le generazioni future Si troveranno assolutamente in crisi Assolutamente più povere di quanto noi non siamo stati E sono contrario al fatto che il nostro governo Per esempio prenda faccia dei debiti con l'Europa Per argomenti e per finalità Con decine di migliaia di miliardi spesi Per esempio per la cosiddetta digitalizzazione Che non abbiamo ancora capito bene a che cosa serva Se consideriamo che lì danno 5 volte i soldi che danno la sanità Qualche cosa non torna E i lavoratori questo non lo percepiscono E non lo accettano Ecco, quindi su che cosa dovrebbero essere dirottati? Sicuramente sul, anzitutto Prima di parlare dei soldi Ci sarebbe da analizzare bene L'effettiva entità di questa emergenza L'emergenza tutti quanti percepiamo che è finita È finita da tempo Qualche cosa anche di sanitario che giustifichi questo Non c'è più Le risorse, ha poi spiegato il referente Fisi Servirebbero in un primo momento Per riparare i danni provocati con il prolungamento Esasperato dell'emergenza sanitaria E poi per contenere l'effetto negativo Causato dagli aumenti del carovita Dall'energia ai beni di prima necessità Noi in anni passati Io l'età me lo consente di ricordarmelo Attraverso il meccanismo della scala mobile In momenti in cui l'inflazione era diventata insostenibile Ha dato la possibilità alle famiglie di sopravvivere E quelli sarebbero soldi Che potrebbero essere spesi benissimo in quella direzione E sulla domanda inerente al vaccino obbligatorio Per gli over 50 Claudio ci ha risposto che è per la libertà di scelta Maggior ragione Quando si tratta di decidere del proprio corpo Va al di là di quello che la televisione vorrebbe far credere O vorrebbe pilotare in questo momento La questione vaccino sì vaccino no serve soltanto per creare questa spaccatura sociale Fenomenale che si è determinata negli ultimi mesi Dietro la quale poi passa il vero disegno Che è quello del controllo totale della politica Senza nessun rendiconto neanche parlamentare E fare quello che è stato iniziato dal 1992 Finire la svendita di questo paese Svendere tutto quello che questo paese ha Impoverirlo al massimo Mangiare i risparmi privati Che in Italia sono notevolissimi E gli speculatori questo lo sanno benissimo Approfittando della distrazione Che la popolazione c'è in questo momento Bisticciando sul Io sono vaccinato, non sei vaccinato Io sono egoista, sei altruista E via dicendo Il Green Pass è l'esasperazione di questo Perché poi che il Green Pass Serva per entrare nel luogo di lavoro È un'aberrazione unica Probabilmente nel mondo Un'aberrazione inaccettabile E stupisce Sottolineo Una delle motivazioni dello sciopero Che i sindacati I cosiddetti rappresentativi Quelli che dovrebbero rappresentare i lavoratori Non abbiano speso una parola Un minuto di sciopero Niente Addirittura se accodino passivamente Sulla deriva del governo In che modo in questo periodo farà sentire la sua voce? Io la farò sentire Per quello che mi sarà possibile Girando per i comuni Diciamo limitrofi Alla provincia di Ancona E probabilmente anche più A seconda di quello che riuscirò a fare Per osservare dall'esterno I palazzi all'interno Delle quali si stanno consumando Questi errori Questi danni Per la popolazione Con dei cartelli Che metterò il collo Per lanciare messaggi Di volta in volta Diversi A seconda del soggetto Tavola di fronte E per far capire Che c'è qualcuno Di fuori Che in maniera pacifica Assolutamente non violenta Intende dire Che queste cose Non vanno bene Che queste cose Vanno immediatamente Interrotte E intanto ieri Il giudice civile Flavia Mazzini Del Tribunale di Pesaro Annullato la multa Da 800 euro Inflitta dalla polizia Umberto Carriera Per aver fatto cenare Una trentina di persone Tra cui Vittorio Sgarbi In pieno lockdown I fatti risalgono Al 15 gennaio 2021 Quando il ristoratore Ribelle Tra i fondatori Del movimento Ioapro Decise di sfidare Il DPCM Del governo Conte Che imponeva La chiusura Di ristoranti Alle ore 18 Le forze dell'ordine Arrivate alla grande bellezza A Monbaroccio L'ummultarno Poi la prefettura Chiese la chiusura Del locale Per 20 giorni La sanzione però Non venne pagata Dall'imprenditore Tanto che la prefettura Stessa fece partire L'ingiunzione di pagamento Carriera impugnò tutto E ieri è arrivata La sentenza di annullamento Dell'ingiunzione Con la disapplicazione Del DPCM Del 3 dicembre 2020 La motivazione Verrà depositata Entro un mese Per Carriera Difeso dall'avvocato Lorenzo Nannelli Di Firenze Si tratta di una sentenza storica Oggi Tra l'altro Ha incontrato Nuovamente Sgarbi Per definire La nascita Del partito Io apro A rinascimento Carriera L'ha definita Una rivoluzione Della classe politica Italiana Che punta Alle elezioni Della primavera 2023 I vigili del fuoco Sono ancora al lavoro Per spegnere L'incendio Divampato ieri In un bosco Nel comune Di Rocca Fluvione In provincia Di Ascoli Piceno Sul posto Diverse squadre Con autobotti E mezzi 4x4 Da questa mattina È arrivato anche Un Canadair Per spegnere Le fiamme Che stanno Interessando Una zona Molto impervia A Gabice Mare I pompieri Sono intervenuti Questa mattina Alle 10.30 In via del Porto Per un'auto Finita in acqua All'interno Per fortuna Non c'erano persone Le squadre Di Pesero E Cattolica Con il supporto Dell'autogru di Rimini Hanno recuperato Il mezzo Presenti Anche la capitaneria Di Porto E i vigili urbani Auto in fiamme In via Barilatti Ad Ancona L'allarme È scattato Ieri sera Verso mezzanotte La vettura Una Y Alimentata GPL Era parcheggiata In una strada privata Sono stati alcuni residenti A chiamare i vigili del fuoco Che hanno spento il ruogo Con l'acqua E la schiuma Antincendio La macchina È andata Completamente distrutta Ma non si registrano feriti Tutta l'area È stata messa in sicurezza E ora Con gli accertamenti Eseguiti anche dai carabinieri Si farà luce Sulle cause Dell'incendio Andiamo nel quartiere Della Trave A Fano Perché sono partiti I lavori Per la realizzazione Di un nuovo percorso Ciclopedonale Che da Piazza Campioni dello Sport Dietro la palestra Fino all'incrocio Con via Modigliani Ci sarà questo tratto Un collegamento Di 130 metri Che metterà In connessione La ciclabile esistente Dell'Interquartieri Con la Paleotta Fino all'Arzilla Da un lato E con via della giustizia Dall'altro Un mese di lavori Da parte di Aset Per una pista ciclabile Illuminata E a doppio senso di marcia L'intervento è partito Nei giorni scorsi Nella zona della Trave Già oggetto Di una riqualificazione Voluta dall'amministrazione Comunale di Fano Che ha riscontrato Una effettiva riduzione Della velocità Con cui le auto Percorrono la strada principale A seguito delle modifiche Alla viabilità Cambiamenti Che proseguono Per ciclisti E pedoni Davanti al circolo tennis Come ci spiega L'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli Vedete come questa amministrazione Sta lavorando Sulla connessione Della rete Delle ciclabili esistenti Quindi stanno lavorando In questo momento Sul collegamento Tra la fine Della pista ciclabile Dell'interquartieri Qui su piazzale Dei campioni dello sport Che si collegherà A via della Paleotta Lavoreremo Su una ciclabile Allarga 3 metri Lunga circa 130 metri Che arriva Fino a via Villa Tombari Nelle prossime I prossimi mesi Ci collegheremo In via Modigliani E poi via della Paleotta Questo tratto ciclabile Verrà realizzato in calcestruzzo Vibrato e spazzolato Con una tonalità cromatica Rossa Simile al colore Già utilizzato Per quella dell'interquartieri A cui si accoderà Previsto anche L'impianto di illuminazione Con lampione a led Di 4 metri Allora da qui Vedremo Vari tipi di ciclabili In via Modigliani Riqualificheremo L'esistente Cercheremo di Trovare una soluzione Con l'intersezione Con l'isola ecologica Per esempio Sistemeremo L'incrocio Molto pericoloso Tra via della Paleotta Via Modigliani Via Morganti Da lì Vediamo che Abbiamo già realizzato Una ciclabile Che va verso il cimitero Fino alla liscia E quindi collegheremo Anche questa zona Mancante Mentre su via della Paleotta Faremo Per la maggior parte Una strada ciclabile Quindi declasseremo Diciamo quella strada In strada ciclabile Quindi la priorità L'avrà il ciclista Rispetto all'automobile E ovviamente Sarà una zona 30 Poi collegamento Che arriverà Fino all'Arzilla Esatto L'obiettivo è proprio Quello di collegare Il mare Dalla foce Dell'Arzilla Fino il centro Quindi da qui Si potrà arrivare Fino agli interquartieri Passando per questa ciclabile Che vedete alle mie spalle Oppure andando alla liscia O verso il centro storico In via della giustizia È un nuovo volto Per la passeggiata Del molo di Ponente A Fano Con una nuova Pavimentazione Installazioni E luci a led Anche la zona Lavorativa del porto Vedrà degli interventi Di sicurezza Con il montaggio Di nuove sbarre D'accesso Il servizio è stato curato Da Filippo Pucci Da lunedì prossimo La zona del porto Sarà riqualificata Con diversi interventi Di miglioramento estetico E di sicurezza I lavori Per un costo complessivo Di 335 mila euro Frutto di un finanziamento Regionale Vedrà coinvolto Nel primo step Il molo di Ponente A spiegarci nel dettaglio Il cantiere E l'assessore Cristian Fanesi Porto un elemento Caratteristico Della città di Fano Uno Dei poli attrattivi Anche Dal punto di vista Turistico Quindi Il molo di Ponente Dove siamo In questo momento Sarà riqualificato Inizialmente Con una Illuminazione diversa Led Molto più importante Che arrivi fino in fondo Metteremo anche Aggiungeremo Degli elementi di arredo Che potranno essere più Come dire E confacenti Alle necessità Anche di una passeggiata Inoltre Ha aggiunto L'assessore Con delega Aldemagno Marittimo Verrà riqualificata L'intera pavimentazione Della passeggiata Che oggi Mostra i segni Del tempo E dell'erosione Del mare Infine I prossimi interventi Riguarderanno L'area lavorativa All'interno del porto Abbiamo previsto Anche il rifeccimento Della segnalettica Orizzontale Verticale Per le auto Che accedono All'area portuale E verranno messe Anche Diciamo Un controllo accessi Quindi delle sbarre Che permetteranno Di poter entrare In alcune aree del porto Solo le auto Autorizzate Dalla capitaneria Di porto E quindi Ci sarà Una regolamentazione Attraverso queste sbarre Che consentiranno Il passaggio Solo degli autorizzati Per le banchine E per le aree portuali Dove si lavora maggiormente Inoltre Inoltre Sistemeremo Anche nella parte Diciamo Del porto Sia vecchia Che nuova La pavimentazione Con rifacimento Anche di alcune Parti in porfido Ma anche delle bitumature Che servono E sono funzionali Appunto L'attività dell'uomo Inoltre Anche qui Saranno Fatte quindi Delle migliorie Molto attese E tra queste Anche la sostituzione Dei parabordi Che sono molto utili Ovviamente Per la navigazione E sono già state acquistate Delle panne Anti inquinamento In caso di sversamenti Che speriamo Non avvengano mai Ma nel quel caso Comunque noi saremo pronti Con la collaborazione Al Capitanere di Porto Sia come protezione civile Lavori che si concluderanno Entro la metà dell'estate Per dare così Una nuova visione piacevole E rinnovata del porto A cittadini e turisti Quindi lavori importanti Attesi Ci auguriamo Che tutto vada Per il verso giusto E cercheremo di ridare Un po' Riportare un po' Diciamo Di vivibilità Anche alla zona Del porto A cui teniamo tantissimo Ancora cronaca I vigili del fuoco Sono intervenuti Questa mattina A Soggesta di Urbino Per un minibus Con il solo autista a bordo Finito con le ruote di destra Nel terreno scosceso A lato della careggiata Sul posto I pompieri di Urbino E l'autogru Del comando di Pesaro Il minibus È stato imbracato E sollevato Per rimetterlo Sulla sede stradale E questa sera Apriamo l'album Di Fano TV Perché dobbiamo fare Gli auguri Alla signora Elena Fossi Residente a Mondolfo Che oggi Compie 101 anni Auguri Da tutti i suoi cari E ovviamente Dallo staff di Fano TV E vi ricordo Che lunedì sera Il sindaco di Fano Massimo Seri Sarà ospite Nei nostri studi Per una nuova puntata Di Primo Cittadino L'informazione Torna domani mattina Con la rassegna stampa Alle ore 7 In diretta Insieme a Massimo Foghetti Un augurio Di una buona serata Grazie a tutti